Ora in onda un mondo di auguri in diretta su Radio Sorriso TV da lunedì al venerdì il tuo programma di dediche e auguri con la più bella musica di Radio Sorriso tutta da vedere, richiedi un video e fai la tua dedica inviando un messaggio al 393 73 66 888 o chiamaci in diretta allo 040 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Luna luminosa Una noce loca Baila, baila ancora Este ritmo che ne fai ti ammora Grazie a tutti Luna luminosa Una noce loca Baila, baila ancora Este ritmo che ne fai ti ammora Luna luminosa Una noce loca Baila, baila ancora Este ritmo che ne fai ti ammora Baila, baila ancora Eccoci qua Eccoci qua pronti per questa nuova puntata di Un mondo di auguri Naturalmente aspettiamo le vostre telefonate in diretta I vostri messaggi Whatsapp dove potete anche richiedere come fate sempre le vostre orchestre preferite Allora, giovedì 12 di giugno sono le 12 di dicembre Baila, baila, baila ancora Carissima, come va a Sandonà? Eh, nuvolo E nevica? Eh Ieri, mia mamma compio 99 anni Ah, mamma mia E come si chiama la mamma? Adalgisa Che bel nome 99 anni 99 anni Eh E l'eri tutta ieri che trova Perché A voi sentite una canzone di Cadaea Ma non c'è stato buono De far niente Adalgisa Tanti auguri di buon compleanno È davanti alla televisione? Sì, sì Ma Mamma ascolta Adalgisa Tanti auguri di buon compleanno 99 anni Complimenti Sì È perfetta Senti Che canzone vuoi per Adalgisa? Allora O Bagutti Bagutti O sennò Alle sette di Mauro e in Boomerang Allora Mauro e in Boomerang Alle sette Oppure la canzone di Bagutti Sì Giusto? Sì Ok Va bene La stiamo cercando sul computer Devi avere un po' di pazienza Se c'è il video Entro le 13 Lo inseriamo Ok? Va bene Grazie Perfetto Grazie E tanti auguri alla mamma Buongiorno Grazie Tanti auguri alla mamma ancora Grazie Grazie Arrivederci 99 anni Portati Spero molto bene Quindi complimenti Assolutamente È un'età È una veneranda età Come si dice in questi casi Tanta salute ancora Adalgisia Sempre e comunque 0 4 2 3 7 3 6 6 7 4 Le telefonate in diretta Questo è un mondo di auguri E sentiamo chi c'è adesso Buongiorno Buongiorno Paola Sono Gianna da Monfalcone Evviva Monfalcone Ciao Stella Come va? È bene Tutto a posto? Sì Tutto a posto Perfetto Vorrei una canzone Se possibile Sì Di Andrea Bocelli Il mistero dell'amore Andrea Bocelli Regia Cerchiamo Andrea Bocelli Come si intitola? Il mistero dell'amore Il mistero dell'amore Allora Vediamo Vediamo subito Penso che ci sia E comunque te la troviamo Ok Andrea Bocelli Tra poco Arriva anche per te Devi avere pazienza Entro le 13 Va bene D'accordo? Com'è il tempo Monfalcone? Com'è il tempo? È brutto Nuvolo È freddo Nevica? No Non nevica Ma è freddo Però Ho capito Dai È l'inverno Dobbiamo un attimo Abituarci all'idea Giusto? Deve fare l'inverno Deve fare Va bene D'accordo Ti mando un bacio Ti auguro Buon pranzo E tra poco Vediamo di trovare qualcosa Di Andrea Bocelli Grazie Arrivederci Ciao Arrivederci Buon pranzo 0423 73736674 0423 736674 Lo dico piano Perché magari a volte Non riuscite a segnarvelo Da qualche parte Allora Troviamo la canzone Di Bocelli Il mistero dell'amore Eccolo qua Perfetto L'abbiamo trovata Anche questa canzone E quindi dopo cercheremo Di fartela sentire Buongiorno Pronto Ciao Paola Buongiorno Ciao Sono Aladina Eccola qua Precisa e puntuale Come ogni giorno Anche oggi Dimmi chi vuoi salutare Oggi Voglio salutare Per cortesia I miei nipoti Di Colegno Torino I nipoti Di Rosolina Li saluti sempre Li saluti sempre 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 Perché ho tanta voglia Di sentirli E non sento mai nessuno E non puoi chiamarli Al telefono No Rispondolo mai Non ci sono mai E tu cosa li saluti A fare Se non ti rispondono Al telefono Sperando che un giorno Si ricorda della zia Ma se non guardano La televisione Come fanno a sentire Che tu li saluti In qualche santo Vi avvertirà qualcuno Va bene Ok Dai Il saluto l'hai fatto Ti bacio Il casolare Il casolare Vediamo Se riusciamo Entro le tredici Roberto Scaglioni Sì 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 Roberto Scaglioni Ciao Ciao bella Ciao Mi raccomando Mi raccomando E sotto le feste Magari si sente di più La mancanza Di qualche caro Di qualche parente lontano Che magari Non sentiamo al telefono O non contattiamo Da tanto tempo Però a volte basta Alzare la cornetta A fare una telefonata No E così si Riallacciano Certi rapporti Durante le feste Si ha più voglia Di essere buoni E allora In mezzo a tanta bontà Io direi Cara regia Di andare Immediatamente Con l'accontentare La richiesta Che ci è arrivata Ad inizio Ad apertura Del programma E cioè Mauro e i boomerang Abbiamo trovato Alle sette E dopo Ritorneremo Dopo la pubblicità Con Andrea Bocelli Il mistero Dell'amore Per un'altra amica Che ce l'ha richiesta Quindi andiamo Subito con le vostre richieste Prego regia Adesso arriva Pronti pronti Alle sette Eccola qua Moire vi aspetta E ora E ora E ora Alle sette Eccola qua E voi Non sono qui con altri Non c'è Non c'è Stasera alle sette Ritorno da te Con tutto il mio cuore L'amore che c'è Se spunta la luta Paga la macchina fotografica Ti porta fortuna Adesso Stasera alle sette Da comprenderò Quel bacio d'amore Che in serbo terrà A farti felice Ci proverò Mi troverai così Con quello sguardo da bambina Che ogni giorno t'ama Più di prima Non dare retta a chi Ci ha fatto separare A terra Prima o poi Dovrà strisciare Ritornerò A casa mia Quando alle sette L'ora della bevaria E sentirò Quella campana Che nel tramonto Rosalieta Suonerà Ritornerò E sarò tua Ti prego amore Non lasciarmi andare via A casa sarò Ma credo ancora Che il nostro grande amore Mai Non finirà Stasera alle sette Ritorno da te Tu apri le braccia Il tuo cuore Perché Se spunta la luna Ci porta a fortuna Stasera alle sette Da te Io verrò Con tutto l'amore Più grande che ho A farti felice Ci proverò Mi troverò Così Con quello Sguardo da bambino Che ogni giorno Voglio A me vicino Non dare retta Chi Ci ha fatto Separare A terra Prima o poi Dovrà strisciare Ritornerò Ritornerò A casa mia Quando alle sette L'ora della bemania E sentirò Quella campana Che nel tramonto Rosalieta suonerà Ritornerò E sarò tua Ti prego amore Non lasciarmi Andere via A casa Sarò Ma credo ancora Che il nostro Grande ormai Non finirà Alle sette Benvenuti Gli amici di Romare Benvenuti a tutti voi La caravozza di Vaila Si va così ragazzi Dai Ritornerò E sarò tua Ti prego amore Non lasciarmi andare via A stasero Ma credo ancora Che il nostro Grande amore Mai Non finirà A stasero Ma credo ancora Che il nostro Grande amore Mai Non finirà Grazie Hai visto che c'è la bacchetta magica Sì sì Attento Di più Se vieni da Sirene Blu Tante idee regalo Come pochette make up Trusse Molto di più Sabato 14 dicembre Con una spesa minima Di 18 euro Ti regaliamo un tappeto natalizio E domenica 15 dicembre Con una spesa minima Di 15 euro Se aggiungi un euro Subito per te Una tovaglia natalizia Sirene Blu Tu di più Non aspettare La Befana Per passare la scopa Con le spazzatrici Eureka Mantenere pulita La propria postazione di lavoro È facile e veloce in ogni contesto produttivo Scopri tutta la gamma di spazzatrici Eureka Ideali per aziende collaboratori Officine Magazzini Spazi interni ed esterni Di ogni dimensione Ricorda Il pulito È il tuo primo biglietto da visita Presentati nel migliore dei modi Accogliendo ospiti e clienti In un'azienda pulita Eureka Produzione, vendita e noleggio Di macchine per la pulizia industriale Eureka Il pulito Un passo avanti Scopri di più su Eurecamacchinepulizia.it Un sorriso È il modo più economico Per cambiare il tuo look Se poi vuoi esagerare Ci sono i gadgets Di Radio Sorriso Più belli che mai Nel sito di Radio Sorriso Alla sezione merchandising Trovi tutti i nostri gadgets Tante belle idee Per i tuoi regali La nuovissima t-shirt Le magliette per i bambini I cd di poesia E i cofanetti di musica Da ascoltare comodamente a casa Con un semplice click Ricevi il tuo gadget preferito In poco tempo Radio Sorriso Più giovane che mai Regalati i nostri gadgets Entra nel sito di Radio Sorriso E vai alla sezione merchandising A Natale Regala un sorriso Siamo sempre insieme a voi Siamo quelli di Radio Sorriso Radio Sorriso ha preparato per te Un cofanetto di 3 cd Per fare gli auguri in modo speciale 3 cd con 48 canzoni Da ascoltare e da ballare A soli 25 euro Comprese le spese di spedizione Noi le cantiamo così Volumi 1 e 2 Con i brani più belli Cantati dagli speakers Di Radio Sorriso E Baby Coro canta la natura 3 cd A 25 euro Ordina il tuo regalo di Natale Chiamalo 0423 7367 Oppure prenotalo Su sorriso.it C'è chi ama ballare C'è chi ama far ballare E poi C'è chi ama e basta Sorriso TV Ama far divertire Ringiovanire Ama fare festa Proprio come voi Orchestre Gruppi Comitati e organizzatori di feste Gente Che ama la musica E far ball doria Uniamoci gente Saremo più forti che mai Chiamate Sorriso TV Allo 0423 7367 Sì 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. E poi arrivi tu, puoi guarire la mia ferita, una notte mi basterà. Stringimi un po' di più, con i tuoi occhi a spillo in me, dammi quello che puoi, dall'inferno io rinascendo. Prima di te ero solo un gran bastardo io, perché? Prima di te, vivevo tutto un po' bandato, oh yeah. A volte per odio, immaginavo sesso e amore, quasi per gioco, non mi accorgevo del dolore. Adesso che ci sei, puoi guarire la mia ferita, una notte mi basterà. Scendi più giù giù, sei la luce della mia vita, sempre di più, la speranza non finirà. Stringimi un po' di più, con i tuoi occhi a spillo in me, dammi quello che puoi, dall'inferno io rinascendo. Puoi guarire la mia ferita, una notte mi basterà. Scendi più giù giù, sei la luce della mia vita, sempre di più, la speranza non finirà. Che purezza tu sei, io la sento tutta in me, solo a te crederò, dall'amore io rinascendo. Scendi più giù. Scendi più giù, sei la luce della mia vita, sempre di più, la speranza non finirà. Scendi più giù, sei la luce della mia vita, sempre di più, la speranza non finirà. Scendi più giù, sei la luce della mia vita, sempre di più, la speranza non finirà. Scendi più giù, sei la luce della mia vita, sempre di più, la speranza non finirà. Scendi più giù, sei la luce della mia vita. Scendi più giù, sei la luce della mia vita, sempre di più, la speranza non finirà. Scendi più giù, sei la luce della mia vita, sempre di più, la speranza non finirà. Scendi più giù, sei la luce della mia vita, sempre di più, la speranza non finirà. Scendi più giù, sei la luce della mia vita, sempre di più, la speranza non finirà. Scendi più giù, sei la luce della mia vita. Scendi più giù, sei la luce della mia vita. Scendi più giù, sei la luce della mia vita, sempre di più. E eccoci nuovamente in diretta alle 12.26, un mondo di auguri, la puntata del giovedì, 12 di dicembre. Buongiorno, buon pranzo a tutti i nostri amici telespettatori. abbiamo visto tanti bellissimi video ma ne abbiamo ancora entro le 13 riusciremo ad accontentare alcuni di voi non tutti quanti perché siete tanti ma alcuni di voi sicuramente vedo che sono arrivati anche numerosi whatsapp e quindi vediamo se riusciamo a passarli sullo schermo così li leggiamo assieme e salutiamo le persone che ci contattano e naturalmente ci mandano i saluti grazie anche a chi ci augura buon giovedì salutiamo la suocera Bertilla ci richiedono una canzone delle mondine per dire alla suocera Bertilla che ti vogliono tanto bene cara signora Bertilla un abbraccio forte forte al mio amore Maurizio dice ancora questo whatsapp e la bimba Lea perfetto abbiamo salutato tutte queste belle persone che spero ci stiano guardando siano collegate sul canale 74 del digitale terrestre qui di sorriso tv e ci ha scritto questo whatsapp veronica grazie veronica buona giornata abbiamo letto il tuo messaggio così abbiamo fatto contenta tutta la famiglia buongiorno oggi un mondo di neve renzo da taglio di po' nevica anche a taglio di po' grazie renzo buona giornata e poi buona giornata c'è una richiesta adesso che sta arrivando mi fate sentire la canzone abbracciami cantata da Pino Ferro abbracciami dopo andiamo anche ad indagare se qualcosa di Pino Ferro ce l'abbiamo da dedicare al signor Dino da parte della moglie quindi abbiamo fatto la dedica ti saluto Dino e saluto anche tua moglie buongiorno un saluto a tutti voi grazie buona giornata per cortesia la vita è di Rossella Ferrari e Casanova va bene vediamo se caro Stefano riusciamo a trovare anche questa canzone noi le abbiamo memorizzate tutte quante e in base insomma ai video che abbiamo a disposizione cercheremo di accontentarvi voi continuate benissimo a mandare i vostri whatsapp che poi vedrete scorrere sul teleschermo al 393 7366 888 ma anche le telefonate in diretta allo 0 4 2 3 7 3 6 6 7 4 ma adesso dobbiamo accontentare una signora che ci ha chiesto Andrea Bocelli ed è arrivato il momento di vedere questa canzone insieme Andrea Bocelli io che canto di notte col rumore del mare io che parlo alla luna per capire il mistero di una storia d'amore e ti sento più forte nelle sere d'estate sento le tue parole come piccoli fuochi accesi in fondo al mio cuore dentro la vita mia una musica suona una nuova poesia nel ricordo di te oceani immensi di libertà giorni di festa che non scorderò il freddo inverno non ti porta via dalla mia vita i desideri le nostalgie quanti misteri questo amore mio il prigioniero del tempo chiuso nella memoria non ho mai più sentito il profumo infinito che una rosa al mattino questa voce questa voce che ho dentro parla solo di noi come un dolce tormento questo sogno lontano non mi fa più dormire non è un canto di addio ma una musica dolce un'orchestra che io suono solo per te oceani immensi ritroverò corpi celesti e terre d'Africa un altro sole ci riscalderà perdutamente fuori infiniti sulle città all'orizzonte solamente noi un mondo nuovo da cercare in tu e questo è il mistero dell'amore un mondo nuovo da cercare in tu questo è il mistero libero 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 Ancora un click da questo lato Bellissima Nessuno riesce a resistere al design unico e sportivo di Aixam, numero uno delle minicar, se cercate un veicolo comodo, sicuro che si guida con il patentino dai 14 anni di età la concessionaria Daross centro minicar fa il caso vostro Daross, centro minicar oltre 25 anni di esperienza nella vendita di minicar nuove e usate assistenza, carrozzeria, revisioni e consegna e ritiro anche a domicilio Daross, in località Pralongo a Monastier di Treviso La musica senza tempo ne confini Con te partirò O sole mio Nessun dorma Le canzoni più belle di sempre Nell'emozionante interpretazione del tenore Fiorenzo Boccato Primo tempo Il CD di Fiorenzo Boccato Che ti scalderà il cuore Per averlo Chiama il 366 259 19 91 O invia un messaggio Su Facebook Fiorenzo Boccato In concerto Luci Colori Immagini Effetto LED Wall Quando suoni e parole non bastano Concerti Spettacoli Eventi Fiere Meritano la giusta cornice Chiamaci per noleggiare il maxischermo adatto a te 0423 73 66 11 LED Wall indoor e outdoor Passo 6 Ad altissima definizione di qualsiasi dimensione Grazie ai pannelli componibili Per avere il tuo LED Wall a noleggio Con montaggio e smontaggio inclusi Chiamaci 0423 73 66 11 A Treviso Fermati All'Albera di Zeus Carne alla griglia Piatti di cucina genuina Le inconfondibili pizze E in più siamo specializzati in cibi senza glutine Certificati dall'AIC Associazione Italiana Celiachia Sale ideali per feste e ricevimenti Ristorante pizzeria L'Albera di Zeus Preganziol via Terraglio 249 Albera di Zeus Sul canale 74 del digitale terrestre Per Veneto e Friuli Venezia Giulia di Radio Sorriso TV La televisione che ti piace di più Come farò a salvare l'anima via? Oh mia Rosina, tu mi piaci tanto E come il mare piace a una sirena E quando non ti vedo piango tanto Che non mi scorre il sangue nell'edere Meglio sarebbe se non ti avessi amato Sapevo il credo ed ora l'ho scordato Pur non sapendo più l'Ave Maria Come potrò salvare l'anima mia? Oh mia Rosina, mi hai ridotto male Andavo a messa e non so dove sia Sapevo le parole del messale Ed ora non so più l'Ave Maria Meglio sarebbe se non ti avessi amato Sapevo il credo ed ora l'ho scordato Pur non sapendo più l'Ave Maria Come potrò salvare l'anima mia Meglio sarebbe se non ti avessi amato Sapevo il credo ed ora l'ho scordato Pur non sapendo più l'Ave Maria Come potrò salvare l'anima mia Che meraviglia le mondine ce le avete chieste voi E quindi noi quando possiamo assolutamente Mandiamo in onda i vostri video preferiti Sono le 12 e 39 Oggi è giovedì 12 dicembre Questo è un mondo di auguri Le telefonate in diretta Quindi se volete chiamare potete farlo anche adesso Allo 04 23 736 674 Però non abbiamo più spazio per le richieste Potete telefonare Vi mandiamo in diretta per fare i saluti O per fare gli auguri di buon compleanno Se c'è qualche persona da festeggiare Allora ciao Paola Come sempre volevo ascoltare una canzone Con l'occasione vi faccio gli auguri di buone feste Chi è che ci scrive? La signora Maria Maria grazie per gli auguri Non riusciamo ad accontentarti Però grazie per gli auguri Sentiamo chi c'è Buongiorno Pronto Ciao Paola Sono Cesarino Buongiorno caro Come va? Nevica da te? Sì Qua sì Dove sei? Anche qua Fiocchi Fiocca Fiocca un pochettino Dove sei tu? In che paese? San Pietro di Stra San Pietro di Stra Carissimo Vuoi fare un saluto? Sì Auguri buon Natale Grazie E con chi lo passi il Natale? Viene trovarti qualcuno? Mi chiediamo il mio padre Perfetto dai Così sei in compagnia Va bene Ci risentiamo Ancora Dimmi E fare meglio Bionda Eh? No Voi do E fare meglio Bionda Sì Devo farmi bionda Più chiara Sì Ah Va bene Non ti piace È troppo scura così Sì Ah Va bene Dai Ci penso Ok Allora Non ho più Non ho più Spazio per le richieste Dai Ti dedico la prossima Che è Pino Ferro Va bene? Va bene Va bene Dai Ciao 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 Eravamo a San Pietro di Stra Allora mi dicono Veloce dalla regia Io vado veloce Eh Perfetto Mandiamo più telefonate Possibili Pronto? Pronto Paola Pronta Prontissima Sono Anna Maria Buongiorno Veloce Fai il tuo saluto Sì Fai augurio Un uomo Si chiama Andrea Perfetto Da dove abita Andrea? A Preganziol A Preganziol? Sì Perfetto Allora Andrea Tanti saluti Dalla zia Sì Zia Della sua mamma Cristina Loris E sua sorella E il cugnato Perfetto E la zia E la zia Tutti quanti Ti saluto Grazie E le canzoni Non ho più spazio Abbiamo fatto i saluti La prossima volta Sì Sì Ciao Grazie Ciao Grazie Ciao Ciao Ok 0423736674 Se volete chiamarci Non abbiamo più spazio Per le canzoni Perché abbiamo già La scaletta piena Con le voze di chieste Quelle arrivate anche Via Whatsapp Allora Ciao Paola Ho pagato Imu e Tasi Ho il morale Sotto i tacchi Va bene Antonio Ti dedico La prossima canzone Abbracciami Di Pino Ferro Chissà che ti rallegri Un po' Va bene Antonio Quindi regia Andiamo Con il prossimo video Abbracciami Ho bisogno di te Abbracciami Tu fai parte di me Sorridimi Perché il tuo sorriso Illumina Questo mio paradiso con te Ora che sei qui Tra le mie braccia Niente al mondo Ci separerà Guardami negli occhi E dimmi quello Che desideri da me Io te lo darò Aiutami Ad amarti di più Aiutami Io ti sorprenderò Si abbracciami Si abbracciami Perché il posto più sicuro Era chiuso Era chiuso tra le braccia Di chi ama Di chi ama Di chi ama Di chi ama Niente al mondo Niente al mondo Ci separerà Guardami negli occhi E dimmi quello Che desideri da me Io te lo darò Io te lo darò Aiutami Ad amarti di più Aiutami Aiutami Io ti sorprenderò Si abbracciami Si abbracciami Vista dall'alto La Terra Forse ci sembra più piccola Ma sicuramente La nostra responsabilità Nei suoi confronti Ci appare molto Molto più grande Per rispettarla Partiamo dai piccoli gesti E scegliamo chi presta attenzione Alla salvaguardia dell'ambiente Rotocart La carta made in Italy Chiama il mondo E chi ci vive Salve sono Claudio Pizzato E voglio presentarvi Nuvola 5G La rivoluzione del pulito Un unico alleato In grado di sostituire Ben 11 macchine E costa meno di una sola E' predisposto per fare Da caldaia Del ferro da stiro Con autonomia Di stiratura illimitata Grazie Al sistema non stop E poi aspira Annega la polvere Lava Asciuga Igenizza l'aria 100% E tutto questo Senza detersivi Sacchetti e filtri Vuoi vederla a casa tua Funzionare? 8 00 45 22 92 8 00 45 22 92 Oppure vai sul sito Claudio Pizzato.it Ripeto Claudio Pizzato.it E approfitta Dello scontro del 37% Arriva a Brescia Per Natale L'American Circus Della famiglia Togni Dal 20 dicembre Al 12 gennaio Area San Polo American Circus The Dreamer Per Natale a Brescia Radio Sorriso Ti invita alla serata di gala Venerdì 20 dicembre Alle ore 21 Chiama in orario ufficio L'895 60 60 665 895 60 60 665 Per ricevere il tuo invito omaggio Valido per due persone Per il 20 dicembre Costo massimo della chiamata 89 centesimi al minuto Viva inclusa Il regalo di Natale Di Radio Sorriso All'American Circus A Brescia A Brescia A Brescia A Brescia C'è la carta vincente E la carta perdente C'è la carta vincente Da una grande partita Da giocata con arte Importante il tuo tanto Le dita Non è solo questione di carte La vita E se a volte ti senti quel dio L'importante è per dirlo tu solo E se un giorno ti senti finito Non scoprire le carte del gioco La vita è La vita è È il più bel tavolo Dal gioco che c'è Se sbaglierai Ti insegnerà È una maestra che da sempre Ha la sua età Ti dà l'amore Quell'amore Che non hai avuto mai Con i dubbi e le paure Che affrontare tu dovrai Come l'ultimo sipario Che un applauso ti farà Questa vita è la tua vita Proprio lei ti tradirà C'è l'estate stanotte Che ti bussa alle porte E le stelle che vedi Sono già da ogni parte Sono fiamme di cielo Di sconfitte E le stelle di glorie Fanno parte di te E di tante altre storie E se a volte ti senti quel dio L'importante è capirlo tu solo E se un giorno ti senti tradito Non scoprire le carte del gioco La vita è La vita è La vita è È la compagna Che è dentro di te Se sbaglierai Ti insegnerà È una maestra che da sempre Ha la sua età Ti dà l'amore Quell'amore Che non hai avuto mai Con i dubbi e le paure Che affrontare tu dovrai Come l'ultimo sipario Che un applauso ti farà Questa vita è la tua vita Proprio lei ti tradirà E intanto va E intanto va E alla fine Ti vincerà La vita è La vita è La vita è La vita è Grazie a tutti. E rieccoci in diretta, Rossella Ferrari e Casanova. La vita è che bella questa canzone, così abbiamo fatta contenta una signora che mi pare si chiamasse Fernanda e comunque saluto tutte le signore che spesso ci chiedono qualcosa di Rossella Ferrari e Casanova. Chiudiamo tra poco con un'altra richiesta di una signora che vuole sentire una canzone di Fabio Cozzani, l'abbiamo trovata, cara signora Maria e quindi tra poco te la facciamo vedere. Prima di salutarvi vi ricordo sempre il pacchetto Natale di Radio Sorriso. Se volete fare un bel dono alla vostra nonna, alla vostra mamma, ai nipoti o per voi stessi acquistate il pacchetto Sorriso di Natale. Eccolo qua. Con i cd noi le cantiamo così, volume 1 e volume 2 e il coro bimbi. Questi tre cd meravigliosi. Il cofanetto Natale di Radio Sorriso che vi spederemo a casa vostra a soli 25 euro. Come fare per averlo? È semplice, basta chiamare in orario ufficio anche adesso lo 0423 7367 7367 e costa solo 25 euro, spese di spedizione comprese. Va bene? Fatevi un bel regalo, regalatevi le più belle canzoni da ballare reincise dagli speaker di Radio Sorriso. Sono qui dentro, tutte qui dentro. È un'ottima occasione secondo me per averlo a casa vostra. Il pacchetto, il cofanetto regalo di Radio Sorriso che vi spediamo in un bel pacchetto direttamente a casa vostra. È tutto, vi lascio con la Manu, con Giro di Tacco. Attenzione, tra poco in diretta con la Manuela ci sarà niente meno che Daniela Cavanna, questa grande artista alla quale faremo una bella intervista e ci saranno anche i suoi video. Restate collegati sempre qui su Sorriso TV, noi ci si risente domani a mezzogiorno, vi aspetto. Arrivederci e grazie a tutti. Mi hai detto che sei stata un di me, innamorata, innamorata, ma per amore no, io non ti ho mai considerata, considerata. E un giorno come tanti tu sei andata via, triste, ignorata, dimenticata, lasciando che il ricordo dentro al cuore tuo scrivesse dolce poesia. Innamorata, innamorata, ero l'unico amore, tu mi hai detto piangendo, ero pazza di te. Innamorata, innamorata, è soltanto di un uomo, prigioniera di un sogno, prigioniera di te. E un giorno come tanti tu sei andata via, triste, ignorata, dimenticata, innamorata, lasciando che il ricordo dentro al cuore tuo scrivesse dolce poesia. Innamorata, ero l'unico amore, tu mi hai detto piangendo, ero pazza di te. Innamorata, è soltanto di un uomo, prigioniera di un sogno, prigioniera di te. Innamorata, è soltanto di un uomo, prigioniera di un sogno, prigioniera di te. Prigioniera di un sogno, prigioniera di te. Tutti i giorni su Radio Sorriso TV, un mondo di auguri. Gli auguri te li facciamo in diretta a TV. Radio Sorriso TV, la televisione che ti piace di più.